Eccoci qua, benvenuti, buongiorno a tutti cari telespettatori di FanoTV, giovedì 3 giugno 2021, sono le 7 e siamo in diretta come tutte le mattine per sfogliare i giornali, abbiamo selezionato per voi anche questa mattina alcune pagine tra quelle più interessanti al nostro giudizio che vale la pena approfondire, commentare anche insieme tra il resto del carino e il Corriere Adriatico. Iniziamo con il santo del giorno, vediamolo subito, i santi di oggi sono Carlo Luanga e i 12 compagni, attenzione perché questa anche l'anno scorso ce la siamo ricordata questa memoria dei santi, sono 12 compagni martiri di età compresa tra i 14 e i 30 anni che appartenevano tutti a una regia corte di giovani nobili o alla guardia del corpo del re, di un re, però erano di fede cattolica. Un giorno il re li volle portare sul colle, sempre in Uganda, però gli fece delle richieste un po' particolari, turpi, insomma delle cose un po' scene. Loro si rifiutarono e furono trafitti con la spada e altri arsi vivi. E adesso il tempo. www.trebimeteo.com, questa è l'immagine della nostra regione questa mattina, soltanto un po' di rivelature sulla provincia, sulla città di Ancona, per il resto qualche nuvolosità in più nel corso della giornata, ma anche domani vedete insomma sole che splende su tutta la nostra regione e dunque possiamo dire che dai, si va verso l'estate, si va verso l'estate, si va verso l'estate, questo ci fa piacere. Allora noi andiamo invece verso il mare perché dovremmo avere in collegamento Tommy il bagnino. Buongiorno Tom, allora Tommy ci sei, eccoti qua. Buongiorno. Ti vedo questa mattina in maniche corte, quindi insomma dovrebbe essere un po' più caldino. Sì stamattina è decisamente più caldo di ieri. Ecco. Si sta bene, si sta bene già. Vedo che anche oggi è una bella giornata di sole, insomma quindi com'è andata ieri? Ieri pienone immagino. Ah ieri sì, ieri è stata una bellissima giornata, diciamo dai che l'estate è ufficialmente iniziata ieri dai, prima vera giornata piena di mare. Tra l'altro ho provato a mangiare qualcosa da quelle parti ma alle 12.30 già era tutto pieno, ristoranti pieni dappertutto, non so in spiaggia se è stato lo stesso. Però c'è una notizia. Sì adesso pieni 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 no. Guarda c'è una notizia dell'ADN Scronos che chiedo alla regia di Riccardo Sola di inquadrare un attimo. Ecco guarda qua, allora Covid, studio italiano, così il sole distrugge il virus in pochi secondi. Clerici dice all'agenzia in spiaggia dopo 10-20 secondi il virus è spacciato. Tu sei in una botte di ferro come si dice. Speriamo allora, speriamo che sia vero. Ok, allora previsioni per oggi immagino belle, dai. Oggi e domani. Sì, condizioni meteomarine molto favorevoli. Oggi il mare è veramente piatto, in gergo si dice forza olio, proprio non si muove. Dai, prevediamo una bella giornata. Allora buon lavoro, a domani, grazie. Grazie. Cominciamo a leggere i giornali. Allora vaccino, questa è la fotonotizia di oggi sul resto del carino, vaccino a 367 maturandi, studenti verso l'esame. Ieri il via alle somministrazioni. Poi la notizia d'apertura, due bimbi morti, la verità, dall'autopsia. Oggi l'esame sul piccolo di Coglio e Metauro ha certamente urbino anche su un neonato deceduto poco dopo la nascita. Poi lo sport con VL parla Aza Petrovic, voglio tornare in un club. Il budget non conta, dice lui, conta soprattutto il cuore. Poi violenza senza freni, va a casa della sua ex fidanzata, aggredisce lei e un amico. Un giovane è stato arrestato. Poi rotoballa sulla gamba, si sente male e muore. Sotto archivio Baldini all'Accademia Raffaello di Urbino, è una donazione. Sono stati donati documenti rari ed inediti che saranno conservati, tra questi le lettere del Duca Federico. Rissa e Campus di Pesaro sono armati ragazzi in azione, segnalazione della lite ai carabinieri ma al loro arrivo i contendenti erano già spariti. Il Corriere Adriatico, Vax Day maturandi con lode. Già 420 le dosi somministrate nella prima giornata, il Codma di Fano l'affluenza più alta ma con code disagi. Studente positivo, dopo la quarantena non è riammesso in classe, per l'Asur è in regola. Il legale però diffida. Le nomine del 2 giugno, cavalieri in lotta contro il Covid e poi contagi e ricoveri, virus in ritirata, adesso le marche vedono bianco. Finalmente al mare ma sotto monte scattano come sempre d'altra parte le multe. Mezzolari, Almerice e San Domenico, tre palazzi da 20 milioni di euro a Pesaro e poi a Fano al parco si fa festa per fare pressing sui lavori in stand by. Ma sotto, di taglio basso, il primario, parla il primario di Urbino, il neonato morto, una sconfitta per noi sanitari, un chiarimento a viso aperto di condemi con i parenti, sotto indagine 5 medici, 2 estetiche, 2 infermiere, il dramma dei genitori del neonato morto 50 minuti dopo il parto è una sconfitta per noi sanitari. Questo evento deve essere indagato in tutti gli aspetti perché dobbiamo dare sicurezza alle mamme. Così regisce Condemi, primario di ginecologia di Urbino. La grande ritirata dell'epidemia, dunque dimezzati contagi e pazienti gravi. A maggio meno 5 mila positivi, terapie intensive occupate al 10%, i decessi in picchiata. Ancora una volta dunque, scrive Lorenzo Sconocchini sul Corriere di questa mattina, ancora una volta il mese di maggio, è il mese che riapre le porte alla vita dopo il lockdown e diffonde il profumo della rinascita. Come un anno fa, anzi molto meglio di un anno fa perché nel frattempo l'avanzata delle vaccinazioni fa sperare in un'estate sotto l'apparenza della normalità, che non covi più i germi di una nuova ondata virale d'autunno. Questo è quanto meno quello che ci aspettiamo. L'altra pagina del Corriere Adriatico, zona bianca in vista, meno ricoverati, sapremo oggi con certezza oggi se le marche avranno già imboccato l'addirittura d'arrivo verso il traguardo della zona bianca, ma è pressoché scontato che domani ci presenteremo al monitoraggio della cabina di regia nazionale con le carte in regola per far scattare il conto alla rovescia ed entrare dal 21 giugno nella fascia con minori restrizioni. Ricordiamo che servono tre settimane consecutive sotto il parametro dei 50 ogni 100 mila abitanti. Noi siamo già in questa settimana, quindi se ne avremo altre due con questo trend, quindi conti fatti, dal 21 giugno saremo in zona bianca, quindi con un po' meno restrizioni. Ma c'è un dato che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina, che tra l'altro mi ha colto un po' di sorpresa, nell'elenco dei 30 comuni con più contagi a maggio, indovinate chi ha il primo posto? La città di Fano. Fano con 347 positivi, seguita poi da Pesaro 262, Ascoli 230 e Ancona 160, quindi nel mese di maggio qui a Fano abbiamo avuto questo primato con tanti positivi. A Ancona invece ieri a un certo punto un messaggino su WhatsApp ha scatenato la corsa al vaccino. A un certo punto una fake news, cosiddetta fake news, cioè una notizia falsa, ha cominciato a circolare sul giornale. Il messaggio diceva questo. Ciao a tutti, oggi al centro vaccinale di Torrette, quello di Ancona, c'è un open day Pfizer per maturandi, ma essendo pochi i maturandi, il direttore sanitario ha dato l'ok per altre fasce. Spargete voce che si presentino qui al centro di Torrette al piano meno uno. Ora potete immaginare dopo un po' che cosa è successo. Sono dovuti arrivare nel pomeriggio persino i carabinieri perché c'era talmente tanta gente che sono stati rimandati a casa. Un passaparola dunque fuori controllo in questa chat. Si era creato un buco e non volevamo rispedire indietro le dosi, ma non è ancora un open day, perché l'open day di fatto nelle Marche non esiste, non c'è mai stato, a differenza di qualche altra regione, quindi l'open day non c'è. Poi sempre nella pagina di Ancona, pagina 5 del resto del Carlino, c'è la figlia di questo signore di 72 anni che si chiamava Vincenzo, che ha deciso di raccontare un po' quello che è successo in famiglia. Questa ragazza, questa donna che si chiama Barbara, fa l'insegnante, dice mio padre è morto dopo la prima dose di Pfizer. Ditemi il perché, perché mio padre aveva 72 anni, era sì un soggetto fragile, però lui ha voluto vaccinarsi praticamente a tutti i costi. Abbiamo cercato di convincerlo a non farlo, ma nonostante in famiglia tutti fossimo contrari, lui ha deciso di fare comunque il vaccino. Ora, non sono qui, dice Barbara, per promuovere teorie complottistiche nei confronti del sistema vaccinale, ci mancherebbe. Il mio intento è però di far presente a chi spinge, attenzione, chi spinge per le vaccinazioni, sembra quasi tutto un delirio collettivo, a chi spinge per le vaccinazioni di procedere con cautela e discrezione, soprattutto nei confronti dei soggetti fragili. Quindi chi ha delle patologie o comunque prima di fare i vaccini, è bene comunque anche farsi un po' controllare, parlare con il proprio medico, insomma, eccetera, eccetera. Ci sono dei dati di fatto. Mio padre è stata somministrata una prima dose il 16 aprile, poi il 17 è iniziato a stare male e poi un peggioramento fino a portarlo alla morte. Il Codma a Rosciano ha rischiato la sovra-prenotazione, l'overbooking, c'è stato un ingorgo tra gli studenti e i prenotati. File e disagi dunque ieri mattina, in una giornata comunque di festa, ieri era il 2 giugno, festa della Repubblica e quindi file e disagi a Fano e non sono mancate le proteste. Perché? Perché c'era tanta gente in fila, in attesa, dentro l'auto, una sosta chiaramente non facile, sotto il sole, con le carrozzerie delle automobili che si surriscaldavano, mentre nemmeno i finestrini aperti riuscivano a fornire un po' di sollievo. Mentre per il ristò domenica a Pesero, il vero banco di prova, per l'ultima giornata infatti, stiamo parlando dei maturandi, non ci sarà l'ordine alfabetico, quindi chi deciderà domenica di fare magari all'ultimo momento il vaccino senza appartenere ad una, senza avere, essendo libero, non essendoci il cognome, uno può andare l'ultimo giorno però quello sarà il vero test di prova. Intanto c'è una storia, quella che riguarda un positivo dopo la quarantena, una persona positiva dopo 21 giorni di quarantena per l'Asur può rientrare a scuola, però non viene riammesso e adesso tutto è passato alle carte bollate, è una battaglia legale al suono di carte bollate di fide lettere alla scuola e al provveditorato. Il caso è quello di un ragazzo che frequenta l'ultimo anno delle superiori all'Ipsi e Benelli di Pesero, il 29 aprile aveva accusato i sintomi influenzali, così come da prassi era stato sottoposto a un tampone molecolare che aveva dato esito positivo. Scrive Luigi Benelli in questo suo articolo una battaglia legale, l'avvocato dice così si mette a rischio la maturità, per l'Asur ripeto, lo studente può rientrare in classe, però per la scuola invece no e quindi adesso tutto è passato per le carte legali. Intanto l'ufficio scolastico dice l'esami da remoto per chi non è guarito, quindi chi dovesse ancora avere problemi con il tampone, quindi con la positività e si avvicinano, siccome si avvicinano agli esami, può farlo da casa quindi al computer. Il rompe alle 6.30, qui siamo alla cronaca sul Carlino di oggi, Carlino di Pesero, il rompe alle 6.30 del mattino in casa della ex Terrore, la ragazza trascinata per i capelli fino al bagno, poi per metterla con la testa nel bidet, picchiata insieme ad un amico che era lì per caso. L'aggressore di 25 anni è stato bloccato dai carabinieri allertati da una vicina di casa. Praticamente si è presentato a casa della sua ex di mattino presto, tanto per giocare l'effetto appena sveglio, insomma, più o meno così. Infatti lei dormiva. Però non era sola. In un'altra camera c'era anche un suo amico che stava dormendo lo stesso alle 6.30. Per entrare, un 25enne originario del Sud America, ma residente a Pesero, già noto la giustizia e già denunciato per stalking dalla sua ex fidanzata, ha fracassato una finestra di un'abitazione a piano terra di case bruciate, poi una volta entrato dentro, questo sudamericano ha cominciato a spaccare tutto e ha preso per i capelli questa ragazza di 22 anni, trascinandola in bagno e mettendole la testa nel bidet per poi aprire l'acqua. Poi è passato all'amico che dormiva in un'altra camera e anche lui poco più che ventenne. Questo ha cercato prima di fuggire, però è stato inseguito, bloccato e anche lui è stato picchiato. Scrive Roberto Damiani questa mattina sul giornale con altri particolari che troverete sull'edizione in edicola del nostro, in edicola del giornale. Poi la cronaca invece che riguarda un altro incidente, un altro incidente stradale che è avvenuto nel pomeriggio di ieri alla rotatore di Cattabrighe, siamo sempre nel Pesarese, tra un'auto e una moto. Questo è lo scenario, questa è la fotografia, vedete, terribile, schianto con questa moto a terra. Un 26enne che è volato sull'asfalto, è stato portato in Ancona con l'eliambulanza, non è in prognosi riservata. Ferita anche la conducente della vettura. Questo motociclista è di Pesaro, MF, queste sono le iniziali, 26 anni, e si è schiantato contro una Toyota guidata da una donna di 65 anni di Pesaro che probabilmente stava uscendo da via Metauro per immettersi sulla sulla statale. Questa è la notizia di cronaca. Poi da Vallefoglia invece celebra il 2 giugno inaugurato il parco Nilde Iotte. Poi sulla World Cup un successo non solo per le azzurre, grandi numeri, alla Vitrifrigo Arena. Ora stiamo parlando di un altro incidente avvenuto nelle campagne, nelle nostre splendide campagne. Un altro agricoltore che è morto, il quarto, se non ricordo male, nel giro di qualche settimana, schiacciato questa volta da una rotoballa, che sono quelle balle di fieno rotonde. La vittima è un 76enne di Pergola. L'incidente, o meglio questa notizia la troverete sul Corriere Adriatico di oggi, e dunque la vallata del Cesano, scrive Jacopo Zuccari, è di nuovo scossa da un incidente sul lavoro in un'azienda agricola. A perdere la vita ieri mattina, poco prima delle 9, è stato l'agricoltore Renzo Olivi, 76 anni di Pergola, ucciso da una rotoballa di fieno che lo ha schiacciato a terra. L'uomo stava lavorando alla sistemazione delle balle circolari in contrada Fenigli, in un terreno gestito insieme alla moglie e al figlio. Per causa in corso di approfondimento da parte dei carabinieri, l'uomo potrebbe avere anche accusato un malore, ma su questo punto ulteriori elementi potranno arrivare ovviamente alla luce dell'esame autoptico che si svolgerà all'ospedale di Fano. Il 30 maggio, poi insomma, vabbè, il giornale giustamente ricorda le altre tragedie, insomma, in tutta la provincia di Pesurbino già 4 casi di decessi avvenuti per lavoro in aziende agricole e il giornale li ricorda tutti, perché, ripeto, è successo tutto nell'ultimo, nell'ultimo mese. Andiamo adesso invece sulla pagina 15 del resto del carlino, perché sul biodigestore, questo benedetto biodigestore, adesso è bufera e scontro tra due sindaci dell'entroterra e il sindaco di Fano, Massimo Seri. Due sindaci contro Seri, questo è il titolo, l'articolo di Sandro Franceschetti, scontro istituzionale, gli amministratori di Mondavio e Terre Roveresche accusano, non si inserisca in questioni che non lo riguardano. Dunque, questi due comuni scrivono, invitiamo agli amministratori comunali fanesi a non inserirsi in vicende e valutazioni, che peraltro sono già in discussione sui tavoli preposti, non riguardanti il loro territorio ad assumere quelle capacità e visione amministrativa degne della seconda città della provincia e soprattutto di chi vorrebbe avere un ruolo guida nelle vallate del Metauro e del Cesano. Dunque, parole dure da parte di Sebastianelli e Zenobi, insomma, a questi due cittadini, primi cittadini, insomma, non sono andati giù i contatti con la ditta Feronia, presentatrice del progetto per il biodigestore di barchi, dell'assessore fanese alle società partecipate, Samuele Mascarin. E non sono piaciute neppure le recenti parole del Sindaco Sene in relazione alle affermazioni di Mauro Biagioli, Presidente del Comitato a difesa del territorio, il quale ha detto di non capire perché il Comune di Fano continua ad avere rapporti con Feronia, considerando che un ente pubblico dovrebbe avere il massimo rispetto degli altri enti pubblici. Insomma, è un po' complicata, ma insomma, questa è un po' la situazione che in questo momento si sta vedendo su questo biodigestore. C'è questa invece intervista che il Corriere Adriatico Roberto Giungi da Fossombrone ha realizzato con Renzo Savelli, lo ricorderete, lo storico forsempronese, che a un certo punto, mentre era con un geometra su una terrazzina per fare un sopralluogo, questa terrazzina ha ceduto e queste due persone hanno fatto un volo di circa sei metri. Ora, Savelli dice sto bene, ma ho sofferto molto, spero di tornare a casa a luglio. Lui ha 75 anni e, come dicevo, è precipitato per sei mesi in un palazzo storico. Ora, faceva un sopralluogo quando il pavimento è ceduto, con il telefonino sono collegato al mondo. Quindi ecco, in questo momento chiaramente dovrà essere immagino fermo, immobile, però grazie al telefonino riesce un po' a essere collegato, come dice lui, con il mondo. Chiesta la riapertura del furlo ai soli pedoni, l'ordinanza emessa contro il rischio di caduta massi dal pietralatra. Il furlo che in questi giorni dà il meglio di sé, perché insomma con l'aria primaverile, il verde, la vegetazione, non solo la luce e quant'altro, queste luci e ombre, insomma è un paesaggio davvero straordinario, che però è chiuso, quindi insomma si spera per lo meno per i pedoni, almeno l'apertura. La festa per rilanciare il parco dalla pagina di Fano, con i sentieri, la casa riposo, la lista, scusa, la casa ristoro, non riposo, ma serve anche per riposarsi un po', oltre che ristorarsi. La lista in comune torna a celebrare il 2 giugno al campo d'aviazione. I lavori però sono in ritardo, mentre le vie Soncino e Bellandra, sempre a Fano, pericolose per i ciclisti. La Lega chiede la messa in sicurezza della pista. Paure e speranze, Fano fuori dalla finestra. Sabato la presentazione del libro con pensieri e immagini del lockdown. I giganti di Cartapesta invece, in vetrina nei cantieri, in attesa della manifestazione estiva e dopo le mancate sfilate di febbraio, al via una nuova iniziativa per ammirare i maestri carristi al lavoro. Dunque la fabbrica del Carnevale di Fano apre i suoi cantieri e i turisti. È iniziata ieri con un gruppo di amministratori di La Spezia, una nuova iniziativa dell'ente carnevalesca che in questa estate carnecialesca ha coinvolto la guida turistica fanese Emanuela Palmucci in un nuovo percorso alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle particolarità della città di Fano, che ha questo Carnevale che, lo ricordiamo, è datato 1437. Mentre Fano e Wissus, gemelli nel segno del Carnevale, l'iniziativa ha coinvolto alcuni alunni di diverse scuole elementari della città francese. Dunque un gemellaggio tra queste due città nel segno del Carnevale. Anche il Corriere Adriatico titola Carnevale il gemellaggio stretto dalle scolaresche, scambio di video e disegni con questa cittadina francese sulla spinta del Voulon. Poi il Comitato Le Brecce, che dice alcune abitazioni ancora non sono protette dai pericoli portati dal mare. L'associazione indirizza una lettera aperta ai concessionari di spiaggia. Siamo e parliamo dell'erosione marina nella zona di Fano Sud. 30 anni di scuola di moda invece a Urbania. Valgono bene una passerella. Sorprese, nomi noti sabato 5 per l'anniversario dell'Istituto del Rovere. E poi a Vallefoglia si è inaugurato il parco dedicato a Nilde Iotti, a Montecchio in occasione delle celebrazioni per la festa del 2 giugno. Il Comune invece di Urbino cerca sei educatori per l'asilo Nidola Tartaruga. Selezioni al Palacarneroli se le domande dovessero essere superiori a 100. E mentre sempre dalla pagina di Urbino, prima la festa del Patrono, poi la Repubblica. Una continuità che rinsalda il cuore Urbinate. La cerimonia in forma ridotta trasmessa anche in streaming. A Urbania ancora arriva la ciclabile con segnaletica sensoriale. È attenta anche ai portatori di handicap e nella nuova struttura viaria sono inseriti tutti gli accorgimenti più moderni e dunque ci sono questi lavori in corso ad Urbania per una pista ciclabile cosiddetta inclusiva che tiene conto delle esigenze di tutti. Poi sotto il bar siamo a Pietrarubbia. Il bar di Mercato Vecchio rinasce nel nome di Anna. La signora Braccia ha lasciato il suo locale dopo 32 anni. Ora forze nuove dovranno dare vita, daranno nuova vita allo storico locale. Siamo quasi in chiusura a Senigallia. Proibito mangiare cibo portato da casa, insomma fare i cosiddetti perugini come si dice. Nuovo divieto. Scoppia la lite nello chalet. Marina di Monte Marciano. Sono dovuti intervenire i carabinieri per calmare gestori e bagnanti. E poi a vaccinare la Caritas. Già iniettate 180 dosi. Marchioni dice prenotazione personalizzata dai medici di famiglia. Andiamo adesso sulla pagina di sport per ricordare questa pagina 6 dedicata agli inserti sportivi. Aza Petrovic. Sì, sono carico. Voglio tornare ad allenare un club. L'ex giocatore della Scavolini dice ho parlato con Ario Costa. Mi ha chiamato anche lo scorso anno prima di firmare con Repecia che è stato mio assistente. Il budget? Insomma per me non è importante il budget, cioè quanti soldi ci sono. L'importante è il cuore. E quindi dice lui mi manca allenare un club e sono carico, quindi ho voglia. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e vi ricordo questa sera alle 20.30. Da puntamento con il telegiornale. Occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.